Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Come al solito vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, detto questo andiamoci dentro col video. Oggi sono qui per parlarvi di un caso che mi ha colpita parecchio. Questo è un caso relativamente recente, è avvenuto più o meno dieci anni fa e ad oggi continua ad essere aperto. Per questo caso ho letto qualche notizia superficialmente, poi mi sono immediatamente incuriosita e come al solito ho iniziato a scavare più a fondo per trovare più informazioni possibili. In questo video voglio portarvi un argomento delicato che di rado tratto su questo canale, in quanto le storie che riguardano bimbi non sono poi così tanto apprezzate da YouTube, diciamo così. Ma per questo caso ho deciso di fare un'eccezione perché mi ha presa davvero tantissimo. Come al solito sono anche curiosa di sapere la vostra opinione. Perché dovete sapere che le informazioni riguardanti questo caso sono poche, sono nebulose, ci sono degli indizi ma anche quelli sono molto fumosi. E quindi insomma sono curiosa di sapere cosa ne pensate. Ma passiamo immediatamente ai fatti. Ci troviamo a Portland, in Oregon, quando i coniugi Kane e Terry Horman si recano alla fermata del pulmino scolastico verso le 15.30 col fine di andare a recuperare Chiron di 7 anni. Chiron è figlio di Kane, nato da un matrimonio precedente. Il pulmino arriva, le porte si aprono ma Kane capisce immediatamente che c'è qualcosa che non va perché non vede suo figlio scendere da quel pulmino. Di conseguenza, come è giusto che sia, si allarma e chiede all'autista dove sia suo figlio. L'autista dice all'uomo che in realtà suo figlio, su quel pulmino, non si è mai salito. Così Kane è sempre più allarmato, contatta la scuola che frequenta suo figlio Chiron. Più precisamente la Skyline Elementary School di Portland. Anche la scuola purtroppo non porta buone notizie. Chiron non c'è. Kane e Terry non capiscono esattamente cosa stia succedendo e quale sia il problema. Sul momento non pensano al peggio, pensano che forse Chiron ha preso il pulmino sbagliato. Forse i genitori di qualcun altro gli hanno dato un passaggio fino a casa. Così la coppia decide di dirigersi verso la scuola di Chiron. Nella speranza magari di trovarlo lì intorno. Forse Chiron non si è mai allontanato? Si è confuso? È rimasto lì magari a parlare con un compagno di classe ed ha perso il pulman? Le domande sono tante, troppe. E occorre dare una risposta. Il padre e la matrigna di Chiron quindi entrano a scuola. Si dirigono poi in tutta fretta verso la segretaria della scuola. Chiedendole chiaramente spiegazioni. Ha visto Chiron quel giorno all'uscita da scuola? La segretaria dice a Kenny e a Terry che lo zaino di Chiron era stato ritrovato proprio all'interno della sua aula. A scuola. E in effetti Terry sostiene di averlo portato in macchina a scuola poco dopo le 8 del mattino. Ed è qui che il mistero si infittisce. Infatti la segretaria spiega alla coppia che l'insegnante di Chiron quella mattina l'aveva assegnato assente. Ma senza avvisare i genitori. La maestra ha aggiunto in una nota che ha lasciato proprio alla segretaria che Terry, la matrigna di Chiron, le aveva detto che aveva un appuntamento medico. Quindi quando Chiron non si era presentato in classe nessuno aveva pensato che fosse successo qualcosa di brutto. Terry conferma l'esistenza dell'appuntamento ma sostiene che sia in programma per la settimana successiva. E che di conseguenza la maestra di Chiron si sia confusa. Questo vuol dire che Chiron è sparito da tutto il giorno. Non è mai andato in classe a quanto dice la maestra. Ma c'è il suo zaino in classe. Quindi a scuola ci era entrato per poi uscire senza zaino? Il segretario della scuola a questo punto chiama il 911. Ma non solo, chiama anche la persona indicata da contattare in caso di emergenza per Chiron. Desiree Young. Sua madre. Desiree quel giorno è a lavoro e per lei quella è una giornata come tutte le altre. Normale. E nota che la sta chiamando alla scuola di suo figlio. Quindi risponde immediatamente alla chiamata. La segretaria le dice velocemente. Lei è la persona da contattare in caso di emergenza per Chiron Horman? Desiree risponde. Sì. Sono io sua madre. La segretaria continua. Devo comunicarle che è scomparso. Desiree è preoccupata tanto quanto Kane torna a casa in fretta e furia. E avvisa suo marito Tony della situazione. I due quindi decidono di salire in macchina e di dirigersi il più velocemente possibile. presso la scuola che frequenta Chiron. Anche perché abitano a Medford e devono raggiungere Portland. Li aspetta un viaggio di circa 4 ore in quanto devono percorrere più o meno 400 chilometri. Anche le autorità arrivano immediatamente sul posto. Davanti alla Skyline Elementary School è presente sia il dipartimento di pulizia di Portland che il dipartimento dello sceriffo. Inizialmente le autorità non sanno bene con cosa hanno a che fare. Quindi inizialmente pensano che molto probabilmente Chiron si sia allontanato da solo. La scuola elementare si trova in una zona collinare circondata da una fitta foresta. Chiron era forse caduto da un burrone? Forse era intrappolato da qualche parte? Era ferito? Mentre gli agenti avviano le ricerche si inizia anche a indagare sull'ambiente da cui proviene Chiron e quindi sulla sua famiglia allargata. Desiree è la madre di Chiron quando conosce Kane nel 2000 ha già un matrimonio alle spalle. Da quella relazione è nato suo figlio Queen che in quel momento ha circa due anni. Desiree e Kane quindi iniziano ad uscire insieme, si innamorano. Quindi vanno a convivere, comprano una casa. Kane si trova benissimo con Queen, il figlio di Desiree. Va molto d'accordo, con lui giocano spesso. L'uomo non ha alcun matrimonio alle spalle e lavora come ingegnere informatico presso l'azienda Intel. Mentre Desiree fa la commercialista e la contabile. Passa circa un anno e mezzo quando il matrimonio tra i due entra in crisi, in una crisi nera. Arrivano addirittura a prendere in considerazione l'idea di separarsi. Poi però durante l'inverno del 2002 Desiree rimane incinta di Kane. Quei nove mesi di gravidanza per Desiree sono stati molto, molto duri. In quanto Kane non le era fedele. E a rivelarglielo era stato proprio un amico di quest'ultimo. Dopo aver appreso la notizia, Desiree sposta le sue cose dalla sua camera ad una camera degli ospiti. Prima ancora che nasca Kyron. Tra Desiree e Kane la situazione chiaramente non fa altro che precipitare. Fino a quando Desiree, un mese prima del parto, nell'agosto del 2002, chiede il divorzio. Kyron nasce nel settembre del 2002. E nonostante Desiree sia stata ferita da Kane, non può certo estrometterlo dalla vita del bambino. Quindi una volta nato cercano di decidere insieme il nome da dargli. Si vedono, ma questo avviene ovviamente per far stare Kyron anche a contatto con suo padre. Infatti i due divorzano ufficialmente nel 2003. Kane e Desiree condividono la custodia di Kyron. Anche se il bambino vive principalmente con Desiree almeno fino al 2004. Anno in cui la donna decide di dirigersi in Canada per andare a trovare una sua amica. Ma una volta lì a Desiree viene un'infezione renale, quindi è costretta ad andare in ospedale. In realtà Desiree ha problemi ai reni da circa un paio d'anni. Di conseguenza la situazione è abbastanza grave. Decide quindi di affidarsi ad un medico per trovare le risposte al suo male. Desiree rimane in Canada per un paio di mesi. Periodo in cui Kyron resta sempre con Kane, ormai 36enne. È sempre un ingegnere presso la Intel? Con un lavoro nel campus della Intel Jones Farm a Hillsborough in Oregon. Kane lavora nel gruppo di architettura, ma ha bisogno di aiuto. Deve assumere una babysitter perché non ce la fa gestire Kyron da solo. Desiree quindi contatta una sua amica di nome Terry Moulton e le chiede se è disposta a dare una mano a Kane per occuparsi di loro figlio. Terry non ci pensa due volte, si trasferisce immediatamente in Oregon, proprio col fine di dare una mano a gestire Kyron. Terry porta con sé anche suo figlio avuto da un matrimonio precedente di nome James, che ha 16 anni. Due mesi dopo essere partita per il Canada, Desiree ritorna negli Stati Uniti con 30.000 dollari di spese mediche. Per rimettersi in piedi si trasferisce dalla sua famiglia a Medford, che le dà una mano a mantenersi. Di conseguenza perde la custodia di Kyron. Non cerca mai di riottenere la custodia, ma mantiene con suo figlio un rapporto molto stretto, prendendosi cura di lui ogni fine settimana. Mentre Desiree si riprende nella sua città natale, trova un lavoro in banca e conosce un altro uomo. La donna, nel suo nuovo lavoro, si occupa di case di frode e di furto d'identità. Mentre Tony si occupa dei reati finanziari al dipartimento di polizia di Medford. È un detective e Desiree deve chiamare proprio lui quando scopre qualche reato o è il caso di far arrestare qualcuno. Così Tony Young ben presto diventa suo marito. Ovviamente anche Tony ben presto conosce Kyron. Il bambino ha circa tre anni e si affeziona a lui molto molto in fretta. Non vede l'ora di crescere per poter fare il detective, proprio come Tony. Intanto alla Skyline Elementary School le autorità cercano anche solo una traccia di quel bambino scomparso. Il punto è che la zona in cui è situata quella scuola mette a dir poco i brividi. Ci sono dei punti infatti dietro la scuola che finiscono direttamente in profondi burroni. Intervengono unità cinofile e unità cavallo. Cercano quel bambino ovunque. È pur vero che oltre ai burroni, intorno a quella scuola sono presenti anche molte praterie, campi e vecchie fattorie. Quindi vengono effettuate accurate ricerche anche nei fienili, nelle intercapedini sotto le case, nelle soffitte. Perquisiscono anche dei furgoni che trovano nei pressi di qualche fattoria. Ma di Kyron non c'è neanche l'ombra. Quando Desiree e Tony arrivano davanti alla scuola di Kyron, quattro ore dopo essere partiti, è già buio pesto. Però quella scuola elementare è illuminata a giorno. Ci sono i furgoni della stampa, automobili della polizia, sono ovunque. Desiree quando scende dalla macchina si sente stordita. Non capisce cosa stia succedendo, si guarda attorno e in realtà non sa esattamente che cosa fare. Fortunatamente accanto a lei c'è Tony che la indirizza verso un poliziotto. Le dice più volte che devono per prima parlare con la polizia per capire cosa sia successo. Tony e Desiree quindi si dirigono verso un detective e chiedono immediatamente quale sia la situazione. Il detective dice a Desiree che credono che Kyron, un bambino di 7 anni sparito dalla scuola durante quella giornata, si sia semplicemente allontanato da solo. Ma Desiree dice immediatamente che è impossibile. Lei è la madre di quel bambino. Kyron porta gli occhiali, non riesce a vedere più di qualche metro davanti a sé e ha sempre avuto il terrore di non riuscire a ritrovare la strada di casa. Secondo Desiree quindi Kyron non è uscito da quella scuola da solo. Non è possibile. A questo punto la polizia scopre addirittura che quella mattina a scuola c'era una mostra di scienze ed erano presenti centinaia di persone che avevano avuto libero accesso alla scuola. Desiree a questo punto inizia a pensare al peggio. Delle persone sono entrate liberamente a scuola. Kyron è scomparso. Forse Kyron è stato rapito? Ma da chi? E soprattutto perché? Arriviamo a sabato 5 giugno 2010 quando a Portland, in Oregon, dopo 24 ore dalla scomparsa di Kyron, si indaga sugli eventi che hanno avuto luogo nella sua scuola il giorno precedente. La polizia infatti sapeva che Kyron era stato accompagnato a scuola quel giorno ma all'inizio delle lezioni non era in classe. Il suo zaino però è presente in classe. Quindi qui c'è qualcosa che non va. Per di più la polizia aveva scoperto che in quella scuola, quel giorno, c'erano state molte persone in più. Quella mattina infatti si era tenuta una mostra di scienze nell'edificio. In quel giorno la scuola era piena di genitori, amici. Ci saranno stati circa 400 visitatori. Siccome durante la mostra di scienze c'era tanta gente, la scuola ha evitato di prendere le firme dei visitatori in entrata e in uscita. Inoltre non c'erano neanche videocamere di sorveglianza. La polizia, appresi questi fatti, non può far altro che guardare in faccia la cruda realtà. In un contesto del genere sarebbe stato facilissimo rapire un bambino. Chi se ne sarebbe accorto? Con 400 visitatori all'interno della scuola, un'ipotesi del genere inizia a farsi realistica. Anche se non si riesce in ogni caso a individuare un movente per questo rapimento. A questo punto la polizia manda a scuola circa 50 detective per interrogare tutti gli insegnanti, i genitori che erano lì quel giorno e gli studenti, perché potevano aver visto qualcosa di utile. Gli interrogatori erano tutti su base volontaria e a parlare con la polizia era stato il 99% delle persone invitate a farlo. Questo significa che praticamente tutti hanno parlato col dipartimento dello sceriffo. Tanner, un compagno di classe di Kyron, racconta alla polizia, a differenza di tutti gli altri, di averlo visto quel giorno a scuola. Secondo ciò che dice Tanner, Kyron voleva andare a giocare con un progetto elettrico. Ancora oggi non è chiaro esattamente cosa intendesse Tanner. Forse si riferiva ad un progetto per la mostra di scienze? C'è un fatto però. Il racconto di Tanner implica che qualcuno ha visto Kyron dopo che Terry l'ha lasciato a scuola. La polizia però non sa come considerare questa testimonianza, in quanto Tanner è l'unico che sostiene di aver visto Kyron a scuola. Non c'è nessun altro che concordi con la sua versione. Quindi per la polizia questa è una pista senza sbocchi. Dopo un'estenuante giornata di interrogatori, la polizia non ha nulla di rilevante o di importante in mano, ma quantomeno hanno potuto scartare parecchie ipotesi non utili alle indagini. Ora i detective possono iniziare a restringere il campo. Come avviene in una normale indagine a questo punto, le autorità iniziano a interrogare le persone che conoscevano la vittima o la persona scomparsa, in questo caso Kyron. Interrogano suo padre, sua madre, la sua matrigna e chiunque avesse dei rapporti con lui, che però non avevano già interrogato a scuola. Kane ha dichiarato che la mattina del 4 giugno era stata una mattinata alquanto movimentata, in quanto Kyron si stava preparando proprio per la mostra di scienze a scuola. Il progetto di Kyron avverteva sulle raganelle dagli occhi rossi, era ossessionato da quelle rane. Kane si stava preparando per andare a lavoro ed era anche un po' in ritardo. Ma si era assicurato di passare un momento da solo con Kyron per dirgli quanto fosse fiero di lui, perché sapeva che si era impegnato tanto su quel progetto. Terry ha dichiarato di aver accompagnato Kyron a scuola quel giorno. Erano loro due e la figlia di Terry e Kane, Chiara. Ma quella mattina Terry, al posto di prendere la Mustang rossa, come tutti i giorni, sceglie di prendere l'altra macchina, un pick-up bianco della Ford. Sostiene di essere arrivata a scuola verso le 8.30 di quella mattina. C'era la mostra di scienze, quindi la scuola aveva incoraggiato tutti ad entrare per guardare i bambini fare le loro presentazioni. Kyron, Terry e la piccola Chiara, di solo 19 mesi, avevano infatti visitato la mostra di scienze insieme. Poi Terry l'aveva salutato. Kyron le aveva risposto Ciao mamma! Poi si era diretto verso la sua classe. Erano le 8.45 quando Terry se ne è andata dalla scuola. E lei era stata l'ultima persona ad aver visto Kyron. Terry ha raccontato però che dopo la mostra di scienze a scuola non era assolutamente tornata a casa. Ben si era andata a fare delle commissioni con la figlia, Chiara. Si era dunque recata in due negozi Fred Meyer, che sono una catena di alimentari con dentro delle parafarmacie nelle zone di Portland. Terry stava cercando un farmaco per lotite per sua figlia Chiara. Poi arriva la parte problematica, o almeno così sembra. Terry, dopo essere stata in parafarmacia, aveva guidato a caso per stradine di campagna senza meta con l'intento di far addormentare sua figlia. Poco dopo le 13, Terry e Chiara sono tornati a casa. Poco dopo Terry si era collegata su Facebook. Verso le 13 e 21 aveva postato una foto di Kyron alla mostra di scienze, tutto sorridente davanti al suo progetto. Dopo aver ottenuto la versione dei fatti della famiglia, gli investigatori ovviamente cercano di fare delle verifiche, quindi decidono di sottoporre tutti i membri della famiglia al test del poligrafo. Kane supera il test, Desiree supera il test, Tony supera il test, ma Terry? No, Terry non supera il test della macchina della verità. Dice alla famiglia per giustificarsi che lei quel test non l'aveva superato perché aveva avuto problemi di udito. Insomma non riusciva a sentire molto bene dall'orecchio sinistro e quindi aveva capito male le domande. Desiree che già guarda Terry con sospetto non crede assolutamente ad una sua sola parola. Anzi, crede che Terry stia mentendo alla grande con la scusa del non sentirci bene. Lei il test della verità l'ha fatto e sa che gli agenti chiedono immediatamente se riesce a sentire bene o meno le loro domande. Desiree quindi sempre più sospettosa incalza Kane e suo ex marito in quanto lei e Tony non erano sospettati. Kane era stato da poco depennato dall'elenco. L'unica persona da cui continuavano a tornare e che volevano interrogare in continuazione era Terry. Desiree chiede al suo ex marito Ma si può sapere cosa diamine succede a casa tua? Kane risponde Eh? Cosa? Desiree ribatte I bambini non spariscono così di punto in bianco Cosa sta succedendo a casa tua? Dobbiamo parlare di Kyron Kane risponde a Desiree Mi dispiace se è successo mentre era con me. Ma torniamo a Terry Terry che non supera il test del poligrafo e questo è un campanello d'allarme per la polizia. A questo punto si pongono delle domande Su cosa sta mentendo Terry? Di sicuro nasconde qualcosa Ma cosa sta nascondendo? Gli investigatori alla fine confermano che Terry in effetti era andata da Fred Meyer il 4 giugno in quanto hanno visionato i filmati di sorveglianza e lei aveva anche gli scontrini Ma poi Terry ha detto che quella mattina era andata in giro in macchina per un'ora e mezza lungo strade di campagne desolate per cercare di far addormentare sua figlia. Questa spiegazione lascia un buco oscuro nella ricostruzione temporale di quel giorno. Come si fa a verificare che una persona è andata davvero in giro in macchina per stradine secondarie per un'ora e mezza? In realtà lo si può fare e lo si può fare grazie alle celle telefoniche La polizia quindi riesce a tracciare il percorso effettuato da Terry tramite il suo cellulare controllando tutte le celle che aggancia ma non trovano nulla di utile pur recandosi delle zone in cui era stata lei in precedenza. Intanto Desiree e Tony nutrono sempre più dubbi su Terry ed è a questo punto che le dinamiche familiari iniziano a scricchiolare infatti Tony vorrebbe mettere Terry sotto pressione ma non sa se Kane si sarebbe arrabbiato non era ancora chiaro a che versione credeva Kane era imperscrutabile l'uomo per caso sapeva qualcosa di più di quello che aveva detto sul comportamento della moglie? Stava forse tenendo nascoste delle informazioni? Cosa gli passava per la mente? Arriva il 18 giugno del 2010 sono passate due settimane dalla scomparsa di Kyron la polizia quindi decide di tenere una conferenza stampa presso la scuola per rendere pubblica la pista più accreditata i detective chiedono chiaramente aiuto alla comunità dicendo queste esatte parole chiunque abbia visto non solo Kyron ma anche Terry la sua matrigna o il pick up che guidava il 4 giugno vicino alla scuola dopo le 9 del mattino deve assolutamente avvisarci l'ufficio dello sceriffo distribuisce dei volantini su cui sono stampate le foto di Kyron è quella del pick up bianco con cui Terry ha accompagnato Kyron a scuola quel 4 giugno le indagini a quanto pare si stanno concentrando sulla matrigna Terry quindi la comunità e gli amici di Terry si fanno avanti dicono che lei con questa storia non c'entra niente è una madre eccezionale la conoscono tutti quindi perché indagare sul pick up e su Terry? è così che gli inquirenti provano a scoprire qualcosa di più sul passato di Terry nasce il 14 marzo del 1970 e cresce a Rosberg capoluogo della contea di Douglas nell'Oregon i suoi genitori sono Carol e Larry Moulton due insegnanti a questo punto Terry incontra e conosce Ron Traver e due si innamorano stanno bene insieme quindi si sposano nel 1991 loro figlio Logan James nasce il 26 gennaio del 1994 la coppia però divorzia appena l'anno dopo tornano in tribunale nel 1999 per l'incapacità di Ron Traver a pagare il mantenimento del figlio l'uomo infatti non ha pagato alcun mantenimento tra il 1996 e il 1998 però nel 1996 Terry è già andata oltre sposando Richard Icker a Springfield l'uomo adotta così James due anni dopo il punto è che tre anni dopo nel 2002 Richard e Terry si separano e nonostante Richard non veda James da anni continua a pagare 500 dollari al mese per il suo mantenimento arriviamo quindi al 2002 Terry cerca lavoro e trova in effetti lavori a lungo termine presso diverse scuole elementari poi dopo essersi trasferita con Kane la donna entra nell'elenco degli insegnanti e supplenti di turno tra il 2003 e il 2006 nel 2005 a quanto pare c'è stato un periodo in cui Terry alzava un po' troppo il gomito e infatti era stata arrestata per guida in stato di ebrezza su una strada interstatale aveva suo figlio James sul sedile posteriore è curioso perché Terry appare come una donna piena zeppa di contraddizioni le stanno tanto a cuore i bambini questo dicono di lei ai suoi amici eppure viene fermata al volante ubriaca con il figlio sul sedile posteriore dal 2006 Terry non fa più alcun lavoro a lungo termine smette di insegnare di fare la supplente per poter stare vicino a Kyron durante la sua infanzia e durante la scuola materna Terry viene descritta in continuazione come una donna che ama follemente i bambini viene descritta come una mamma premurosa il suo ex marito Richard Icker dice a riguardo è sempre stata un'insegnante di talento ha sempre fatto di tutto per la scuola e per i bambini lei ama quell'ambiente non farebbe mai nulla ad un bambino io lo posso assicurare gli investigatori però continuano a scavare e trovano delle email che Terry aveva mandato ad un suo compagno del liceo Michael Cook prima della scomparsa di Kyron da quelle mail si capisce perfettamente che il matrimonio tra lei e Kane è in crisi più precisamente leggendo quelle mail si capisce perfettamente che Terry aveva iniziato a capire che Kane la stava tradendo e dava la colpa di molti dei loro problemi coniugali a Kyron la polizia ha dichiarato chiaramente che in quelle email si vedeva quanto Terry disprezzasse Kyron covava del risentimento verso di lui non voleva più averlo in casa in pratica Terry aveva messo per iscritto quanto diasse Kyron e forse anche quanto volesse farlo sparire specifico che io queste mail non le ho trovate pubbliche ma ho trovato solo dei riassunti quindi non ho potuto leggere con esattezza il loro contenuto se per caso esistono online e voi le trovate siete liberissimi di aggiungere informazioni nei commenti ovviamente nonostante questi mail però la polizia non ha in mano abbastanza prove per arrestare Terry queste sono sicuramente prove indiziarie che però portano a poco non hanno un corpo non hanno una scena del delitto non possono dire con sicurezza che Kyron non ci sia più non c'è assolutamente nulla se non quelle email presto tuttavia si fa avanti un conoscente di Terry e fa un racconto assurdo a tre settimane dall'inizio delle indagini durante alcuni interrogatori salta fuori il nome di un certo Rodolfo Sanchez l'uomo aveva fatto degli interventi di paesaggistica per Terry e quest'ultima cinque mesi prima della scomparsa di Kyron gli aveva fatto una proposta gli aveva chiesto se conoscesse qualcuno se lui stesso fosse disposto a uccidere Kane che infatti gli aveva detto che il marito la trattava male era molto crudele con lei inoltre quanto pare Terry e Rodolfo avevano in realtà una relazione extra coniugale appena gli investigatori vengono a conoscenza di questa storia sono consapevoli che non possono farla cadere così nel nulla quindi le autorità pensano beh se non riusciamo a inchiodare Terry per aver fatto qualcosa a Kyron e per la sua scomparsa magari riusciamo a inchiodarla per omicidio su commissione così escogitano un piano per far indossare un microfono al paesaggista ossia Rodolfo e mandarlo a casa di Terry insieme ad un agente sotto copertura che si finga il suo socio nella speranza di farla confessare così Rodolfo e l'agente sotto copertura si dirigono a casa di Terry bussano alla porta chiedono di lei e appena la vedono le dicono immediatamente Terry sta attenta perché ora diciamo alla polizia che hai provato ad assoldarci per uccidere tuo marito se non ci dai diecimila dollari Terry però non ha bocca anzi tutt'altro diventa sospettosa e alla fine è lei a chiamare la polizia e in effetti la domanda che mi sorge spontanea è ma cosa diavolo si aspettavano? Terry sapeva di essere sospettata credevano che di colpa avrebbe confessato tutto a Rodolfo davanti a casa sua a distanza di mesi da quella richiesta che poi non era neanche stata poi così tanto presa sul serio la polizia però non archivia la pista piuttosto i detective vanno a parlare con Kane il quale esclama scusate ma di quale paesaggista mi state parlando? abbiamo un paesaggista? io neanche lo sapevo Kane giustamente si infuria ma inizia anche a temere per la sua incolumità e per quella di sua figlia Chiara in alcune fonti però si mette in dubbio l'onestà di Kane in questo frangente infatti a quanto pare sa perfettamente che Terry ha avuto una relazione con Rodolfo ma lui conviene più dire che non sa neanche chi sia questo Rodolfo la polizia e l'FBI accompagnano Kane e Chiara sua figlia in un albergo in centro poco dopo Kane chiede il divorzio e ottiene anche un ordine restrittivo poi Kane finalmente rivela a Desiree e a Tony ciò che pensa del potenziale coinvolgimento di Terry nella scomparsa di suo figlio Tony e Desiree vanno a trovare Kane in albergo e si trovano davanti un uomo distrutto a questo punto scoprono che anche lui aveva indossato un microfono per registrare Terry insomma aveva collaborato con le forze dell'ordine anche se non era riuscito a far dire una sola parola Terry purtroppo ora Tony e Desiree capiscono perfettamente da che parte stia Kane il 28 giugno 2010 un mese dopo la scomparsa del figliastro Kyron Terry si prepara ad affrontare una battaglia sa di essere nel mirino delle indagini della polizia ha urgentemente bisogno di un avvocato perché il cerchio intorno a lei inizia a stringersi sempre di più Terry infatti assume uno degli avvocati difensori più costosi di Portland Stephen House e ovviamente smette di collaborare con la polizia ora che Terry non parla più per trovare ulteriori prove le autorità devono nuovamente aggiustare il tiro la polizia infatti chiede a Kane un elenco degli amici suoi e di Terry quindi delle persone che potevano essere dei sospettati il nome di Didi Speaker è su quell'elenco ed è un'amica di Terry infatti insieme frequentavano la palestra le due di solito seguivano una lezione al mattino presto e inoltre festeggiavano sempre insieme i compleanni Didi lavora in un campo di lavanda in una piccola azienda agricola che si trova nella stessa zona in cui vivevano Kane e Terry dopo che Kane ha traslocato e ha chiesto il divorzio Terry è rimasta a vivere in quella casa e Didi si è trasferita da lei per un bel po' per conoscere gli spostamenti di Didi il giorno della scomparsa di Kyron gli investigatori parlano con i suoi colleghi la gente che lavora in quel vivaio infatti ha l'abitudine di riunirsi per pranzare sempre insieme ma proprio quel 4 giugno nessuno riusce a trovare Didi la sua macchina è lì ma non riescono proprio a trovarla per pranzare con lei i colleghi di Didi quindi spiegano alla polizia che hanno anche provato a chiamarla più volte al cellulare ma Didi quel giorno non ha mai risposto al cellulare neanche una volta quindi sembra che la donna sia scomparsa molto di più che per una breve pausa e questo è molto strano sembra peraltro che i colleghi abbiano provato a chiamarla nello stesso arco di tempo in cui Terry aveva girovagato in macchina lungo le stradine di campagna la polizia non può fare a meno di chiedersi se per caso non ci sia un collegamento elaborano quindi una tesi secondo cui siccome Terry e Didi erano scomparse per lo stesso periodo del tempo venerdì 4 giugno molto probabilmente si erano incontrate la polizia inoltre scopre anche che un paio di giorni dopo la scomparsa di Chiron Didi aveva acquistato un telefono usa e getta perché Didi avrebbe dovuto comprare un cellulare usa e getta non tracciabile in una situazione come quella gli investigatori quindi decidono di interrogare Didi e le chiedono di quando era risultata irrintracciabile il 4 giugno Didi racconta che il giorno in cui Chiron era scomparso era un venerdì e loro stavano preparando i giardini e i campi per una grossa visita organizzata per il sabato successivo quindi semplicemente lei era stato ordinato di collaborare per i preparativi aveva piovuto c'era molto fango quindi Didi dice agli investigatori con molta naturalezza perché avrei dovuto portarmi dietro il telefono in quella circostanza avrei rischiato di romperlo di bagnarlo quindi l'ho lasciato in macchina quindi secondo la versione di Didi lei quel 4 giugno era a lavoro non erano riusciti a trovarla perché lei in quel momento non era nei campi ma a lavorare in un'altra zona del vivaio di conseguenza non poteva neanche essere nel pick up con Terry quando la polizia le chiede perché avesse comprato un telefono usa e getta quando Kyron era scomparso Didi risponde sinceramente che il suo cellulare era intercettato quindi potevano ascoltare tutte le sue telefonate comprese quella al suo avvocato ecco perché aveva comprato un cellulare usa e getta Didi è categorica non sa cosa sia successo a Kyron ma di una cosa è certa Terry non c'entra niente la polizia non trova alcuna prova che colleghi Didi alla scomparsa di Kyron e le indagini a questo punto arrivano ad un punto di stallo per due anni Terry è stata al centro delle indagini nel caso della scomparsa del figliastro ma è sempre riuscita a stare a galla in un modo o nell'altro i dubbi su Terry erano e continuano ad essere davvero tanti ma alla fine non è mai stata realmente incriminata in quanto non hanno mai trovato prove a sufficienza per farlo nel 2012 Desiree è furiosa quindi intenta una causa contro Terry in sede civile Desiree ha accusato Terry di aver rapito Kyron e ha chiesto alla corte di ordinare a Terry di rivelare dove si trovasse Kyron con o senza vita Desiree però ben presto incontra delle resistenze la polizia infatti era molto infastidita in quanto gli stavano chiedendo di presentare tutti i fascicoli del caso avevano paura che se Terry avesse saputo tutto quello che già sapeva la polizia avrebbe interferito ulteriormente sulle indagini questo ha creato forti tensioni tra i genitori di Kyron e il dipartimento di polizia peraltro Terry durante le indagini aveva assunto davvero un avvocato molto bravo ed esperto è così che l'avvocato di Terry è andato in tribunale dicendo non potete costringere la mia cliente a testimoniare state violando i diritti dell'imputata e il quinto emendamento di non auto incriminarsi il giudice ha quindi convenuto che quel processo avrebbe messo a repentaglio Terry dal punto di vista penale a questo punto Desiree capisce che quella causa legale non avrebbe portato da nessuna parte sono passati dieci anni dalla scomparsa di Kyron e il caso è ancora aperto Desiree è convinta Marcia ancora oggi che Terry sia coinvolta è proprio convinta che Terry sappia qualcosa spera quindi che un giorno Terry si faccia avanti e dica quello che sa la polizia di Portland effettivamente sta ancora indagando su Terry ma dopo dieci anni hanno praticamente dato fondo ad ogni pista possibile o quasi non sanno più a cosa aggrapparsi hanno bisogno di una svolta di un indizio di un qualcosa che possa colmare il vuoto che c'è tra quello che sanno o quello che pensano di sapere e quello che è accaduto a Kyron la verità è che al momento non si hanno risposte le autorità non sanno più di quanto non sapessero quando Kyron è scomparso dalla scuola elementare quel 4 giugno del 2010 c'è un'altra parte della storia che noi non conosciamo secondo me sì la scopriremo mai? non lo so oggi Kyron avrebbe 18 anni e a me piace pensare che sia da qualche parte là fuori ogni tanto sebbene non ci sia un lieto fine sperare non costa nulla d'altronde anche Jaycee Lee Dugard è stata ritrovata dopo 18 anni no? detto questo ragazzi spero che questo video possa essere stato di vostro interesse fatemi sapere cosa ne pensate di questo caso ma soprattutto lo conoscevate? secondo voi cos'è successo realmente? perché questo caso è davvero un sacco fumoso secondo voi Terry è la colpevole? oppure la polizia si sta canendo su di lei perché effettivamente non hanno altre piste da seguire? detto questo io vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ciao ragazze ciao ragazzi ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.